900 tutto questo è assolutamente contrario al regolamento in culo il regolamento sto a Roma l'ho fatto a Madrid posso anche farlo qua se a qualcuno sta bene faccio valigia e vado a casa questa sera tutti i gol da pallone d'oro per la Roma gol numero 6 il campionato per lui il gol del 4 a 0 è realizzato da Peter Pan dal numero 18 Antonio! non l'ho sentito bene Antonio! adesso si il Grazie a tutti. Il sole sul tetto dei palazzi in costruzione, il sole che batte sul campo di pallone, che terra e polvere che tira vento e poi magari piove. Mimino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura, dodici anni e il cuore pieno di paura. Mimino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particoli... Un gol incredibile, Cassano! Un giocatore, un miglior rientro, non poteva farlo con questo gol strepitoso... ...e dalla fantasia. Chissà quanti ne vedrà. Mimino capì fin dal primo momento l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato... ...e entro nell'area fino senza guardare ed il portiere lo fece passare. Mimino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Un giocatore lo vedi dal coraggio... Ancora Cassano in numero, in area di rigore... Cassano! Cassano! Straordinario! Mi permette di scusa se ti intendo, ma è straordinario amici! Questo non è un gol! Questo è un super, super gol a giocatore! Mi ricercherà con la maglia numerosa a te! Ehi! 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 Ehi!